In attesa del Natale con l'arrivo del periodo di Avvento, tornano i dialoghi con la città, voluti dall'Arcivescovo Metropolità di Napoli, il Cardinale Crescenzo Sepe. La riflessione è incentrata sull'opera di misericordia visitare gli infermi, che sostanzia la sua ultima lettera pastorale ed è al centro del lavoro pastorale di tutte le comunità dell'Arcidiocesi. Quest'anno ho fatto questa lettera che è dedicata alla visita agli amalati e allora abbiamo pensato di mettere in luce, in risalto, tutto quanto esiste nella nostra comunità a favore appunto dell'ammalato, del sofferente. Il primo degli incontri si è tenuto nell'auditorium dell'Ordine dei Medici di Napoli, al quale hanno partecipato Monsignor Adolfo Russo, vicario episcopale per la cultura, il professore Enrico Di Salvo, la dottoressa immacolata Capasso, che ha portato la sua testimonianza di medico e volontaria, e Silvestro Scotti, presidente dell'Ordine. Il segnale che arriva dalla Chiesa in questo momento ci soddisfa, ci dà l'idea che insieme alla comunicazione che l'Ordine dei Medici sta facendo rispetto a questo tema, si affianca una comunicazione e speriamo, come ho già detto, arrivi ai parroci, arrivi attraverso i pulpiti, a tutti i cittadini, nel pensare che chi ti cura non è mai un nemico, chi ti cura è qualcuno che ti assiste, un uomo di pace, e quindi superare in questa maniera, grazie anche all'amplificazione del messaggio della lettera pastorale, questa conflittualità. Noi lo speriamo e faremo il possibile per amplificare il messaggio del Cardinale a tutti i nostri iscritti.